L'infermiera rossa è impregata di legarsi uccettemente insana... L'infermiera rossa è impregata di legarsi uccettemente insana... Che fai? Mi pedivi? No! Ti va di uscire qualche volta? Con te? Con me? E una bottiglia di Jägermeister? No, no Todd, non voglio. Ma non pensare che sia perché ho rotto con qualcuno, sono lesbica o voglio proteggere la nostra amicizia, è perché ti trovo così orribile che ti vedrai bene con un campanaccio al collo. Ho sentito soltanto lesbica, sai una cosa, lascia che le parli io per te.